10 aprile 1985, un ex inquilino di Berdella, il 23enne Robert Sheldon, bussò alla sua porta, chiedendogli se potesse stare a casa sua per un breve periodo di tempo. Era l'occasione perfetta per Berdella, che, come fatto precedentemente con la sua prima vittima, lo drogò con dosi massicce di sedativi e lo tenne prigioniero nella camera da letto per tre giorni, durante i quali il ragazzo venne crudelmente torturato in vari modi. Cinque giorni dopo, Berdella decise di eliminare la sua vittima, soffocandola con un sacchetto di plastica in testa.